Guido Guidesi, perché abbandonati i lavori della Commissione Bilancio? Abbiamo abbandonato i lavori della Commissione Bilancio su un provvedimento che è il Destinazione Italia, dove stamattina, al parere della ragioneria e del Ministero dell'Economia, ci diceva che non c'erano le coperture su una parte di quel provvedimento, le coperture economiche, per cui i soldi. La Commissione è stata sospesa e il governo, i parlamentari di maggioranza della Commissione, sia Bilancio che Attività Produttiva, hanno iniziato una pressione sulla ragioneria dello Stato e sul Ministero dell'Economia affinché si cambiasse quel parere. Noi a queste pagliacciate non ci stiamo, perché il governo ha appena nominato un commissario alla spending review per evitare sprechi e oggi assistiamo invece a una cancellazione dell'articolo 81 della Costituzione che prevede il pareggio di bilancio, per cui che ci siano le coperture su tutti i provvedimenti. In tutto questo intanto il Presidente del Consiglio ha deciso di farsi una bella gita di settimana bianca a Sochi, guardando da lontano le pagliacciate dei propri parlamentari. Voi che cosa avete detto al governo? Noi abbiamo detto al governo che se c'è un parere della ragioneria del Ministero dell'Economia, quel parere va rispettato dalla Commissione Bilancio perché così rispettiamo i soldi dei cittadini e che se mancano le coperture il provvedimento va cambiato, per cui deve tornare nelle commissioni di merito che devono fare le dovute variazioni. Perché non si fa questo? Perché il governo vuole evitare una figuraccia, l'ennesima figuraccia che comunque fa lo stesso, ma perché soprattutto la prossima settimana bisogna assolutamente iniziare in aula la discussione sulla legge elettorale perché la coppia Renzi-Berlusconi ha deciso fuori da quest'aula quale siano le priorità per i cittadini italiani.